ciao a tutti io sono francesca oggi voglio farvi la recensione di pokémon per lo splendente il remake del gioco che usci per nintendo ds tra l'altro quel gioco lì io ho giocato molto ho giocato per cinque anni quindi dal 2006 2011 e quando ho sentito che facevano il remake per la switch ovviamente io ho preordinato questo tipo di gioco è un gioco di ruolo comunque con i pokémon ovviamente di quarta generazione e io mi sono fatto un appunto con tutte le differenze che io ho notato fino adesso tra questo remake e pokémon perla per nintendo ds allora io questo video l'avevo già fatto però poi dopo continuando a giocarci ho notato delle differenze parto dalla prima differenza nel senso che molte cose si sbloccano una volta tenute ottenuto il pokédex nazionale quindi finito il pokédex di sinno quando si incontrano le 150 specie di pokémon del pokédex di sinno praticamente delle cose cambiano allora quindi adesso dico le cose che cambiano con questo pokédex allora innanzitutto si sconfiggia la lega si finisce il pokédex di sinno sia il pokédex nazionale e a differenza di pokémon perla e diamante uscite nel 2006 qui i super 4 e al campionesso della lega diventano più forti nel senso che anche loro avranno allenato i loro pokémon e quindi saranno più forti di 5 6 livelli anche di più quindi e poi oltretutto un'altra cosa che non è da poco si possono risconfiggere tutte le palestre una volta al giorno mi sembra di aver capito io le ho risconfitte una volta ma poi dopo i pokémon sono sempre quelli quindi i sotterranei sono modificati nel senso che si possono incontrare i pokémon nei sotterranei non era così in pokémon per la precedente quello lì nel gioco del 2006 e soprattutto nei sotterranei si possono incontrare una volta sbloccato il pokédex nazionale gli starter dalla prima generazione fino alla quarta generazione io ho incontrato non mi confondo sempre charmander tartwig e bulbasaur anche cicorita ho incontrato questi per ora poi per il resto non ho avuto occasione di incontrarne altri ovviamente per riuscire a trovare questi starter a parte che è difficile però dovete mettere nella vostra base le statue per esempio nel caso di di tartwig ci vorranno le statue di pokémon d'erba ok più stato ci sono più semplice incontrare questi questi pokémon si può incontrare anche ditto nel sotterraneo una volta finito la finita la cioè ottenuto il pokédex nazionale bisogna andare a memoide e nel sotterraneo di memoide c'è praticamente una stanza galattica e lì è facile incontrare ditto ci sono entrambe le forme di giratina però nel senso che adesso mi collego ad un altro punto c'è il parco rosa rugosa che è al posto del parco amici e lì si possono catturare dei pokémon leggendari e si sfiderà giratina a livello 100 nella forma origine quindi quella che è in pokémon platino per intenderci per poi dopo ottenere giratina in forma origine si dovrà andare nel sentiero per andare da ropepoli a pratopoli c'è un sentiero si sbloccherà una volta finito ottenuto il pokédex nazionale lì dentro c'è giratina nella forma alterata nella forma in cui si trovava anche nei giochi precedenti quindi nel pokémon per le diamante quelli usciti nel dono di esse poi dopo a questo giratina voi ci dovete dare la grigiosfera che la ottenete sconfiggendo quello di livello 100 nel parco rosa rugosa e così giratina tornerà nella sua forma normale e non alterata io penso di avervi detto tutto sì queste sono le differenze che io ho notato per ora tra i due remake prima quando io ho fatto questo video non avevo notato queste differenze perché non avevo ottenuto il pokédex nazionale comunque il mio consiglio è nel senso che se vi è piaciuta se vi sono piaciuti pokémon diamante e pokémon perla per interno di esse vi consiglio di acquistarlo molti si lamentano del fatto che non hanno cambiato molto la storia però io questo è un punto favore perché se l'avessero cambiata a me probabilmente non sarebbe piaciuto io ho giocato a pokémon perla pokémon diamante pokémon platino pokémon oro pokémon argento pokémon bianco pokémon bianco 2 pokémon nero pokémon nero 2 e pokémon scudo e ho notato che in questi giochi qui che ho nominato vabbè a parte per le diamante tutti gli altri una volta finita combattuta la lega pokémon è finito il pokédex non c'è niente da fare invece su pokémon perla diamante platino una volta finito il pokédex c'è comunque qualcosa da fare quindi è classico gioco che non finisce mai per intenderci e io vi consiglio di acquistarlo voto da 1 a 10 per me 10 lode assolutamente è il mio gioco pokémon preferito stavo dicendo giochemon vabbè detto questo io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao